Ciao a tutti, sono lo chef Emanuele Cucchi, chef executive di Maison Milano. Anche questa settimana voglio farvi vedere una ricetta che è la punta di diamante di Maison, la pasta fresca. Potete rifare la ricetta a casa vostra, sedervi davanti al computer e assistere agli spettacoli dei nostri artisti su Instagram e Facebook. È come essere in Maison un venerdì e un sabato. Per preparare questa ricetta bastano due semplici ingredienti, 300 grammi di farina 00 che sicuramente avete in casa e tre uova. Create il classico vulcano, rompeteci dentro le uova e iniziate a mischiare con una forchetta, fino a quando gli elementi non saranno ben amalgamati. Quando l'impasto sarà più consistente, iniziate a lavorarlo con le mani. Create un panetto e lasciatelo riposare per circa 40 minuti. Stendete con l'aiuto di un mattarello oppure una bottiglia di vetro se non ce l'avete in casa e create una bella sfoglia che lasceremo riposare ancora fino a quando si secca un po'. Arrotolate i due lembi. Tagliarla e creare così delle ottime tagliatelle da mangiare a casa vostra. Continuate a guardare le nostre ricette, gli spettacoli e i drink preparati dal nostro barman sulle pagine Instagram e Facebook. Ciao, a presto!